Voi reagite e ahhh! Quando voi non vi focalizzate su di voi e fate come ho fatto io, vi pagate dopo gli altri, se ce ne sono, lavorate più degli altri, rinunciate più degli altri, ogni volta è un'ammazzata che date alla vostra autostima. E non può durare più di un certo tempo, altrimenti distruggete la vostra psiche, diventate persone che metabolizzano, che somatizzano, che sono irrequieti, irrascibili. Basta che uno vi suoni il clacson al semaforo e voi reagite ahhh! Fate così! Quando non state bene dentro fate così, è la realtà, è la realtà. E allora se voi state bene dentro, quando uno vi suona dice posso esserti utile caro?